Preghiera del mattino O Dio unico in tre persone, ti ringrazio con tutto il cuore di avermi preservato questa notte da ogni pericolo del corpo e dell'anima. Donami, se così a te piace, la sapienza e la forza della tua parola per affrontare gli avversari della verità. La tua grazia sia sempre con me. Amen. Grazie a tutti.